Ciao ragazzi, scusate di questo cambiamento temporaneo della postazione ma ho voluto un attimo cambiare per registrare un attimo questa intro dal cellulare niente, da come avete letto dal titolo voglio ringraziare voglio ringraziare una persona in particolare ma anche tutti voi che mi state continuando a seguire da come avete visto abbiamo quasi raggiunto ben 4000 iscritti e questo mio grande amico Manuel, amico forse è troppo poco questo mio grandissimo amico ha deciso di dedicarmi una piccola lettera dove parlava un po' di quello che pensa di me io ne ho letto solo un pezzo perché ho deciso al momento istantaneamente di farci un video spero che questa idea vi piaccia Manuel, io veramente ti ringrazio infinitamente di tutto il supporto che mi stai dando e niente, grazie di cuore veramente, buona visione caro Mattia, lo so, ti dovrei chiamare Mattiz perché proprio questo è il nome con cui stai intraprendendo questa tua carriera su Youtube ma preferisco chiamarti con il tuo vero nome cosicché io possa essere il più diretto possibile con le parole non sono un granché ma ti assicuro che ogni cosa che è scritta in questa lettera mi è uscita dal cuore non ci sono molte cose da dire o forse sì, ma ci metterei troppo tempo quindi cerco di farla il più breve possibile ci siamo conosciuti poco più di un anno fa avevi appena iniziato a fare video con il cellulare per divertimento e avevi appena aperto un canale insieme al tuo amico Carlo da quanto mi hai raccontato da quando ci hai raccontato tutto inizia un giorno te e il tuo amico seduti sul divano a pensare a come chiamare il canale finché non siete arrivati ad una soluzione non è stata una genialata avete solo preso la parola Clash del gioco Clash Royale e l'avete unita al suffisso R che in inglese indica la persona che compie qualcosa tutto qui inizia la tua prima avventura su Youtube carichi i tuoi primi video finché non arriva il giorno in cui abbiamo deciso di formare un vero e proprio gruppo formato da ben 5 ragazzi proprio noi, i Clashers tutto andò bene fino ai mesi estivi non so perché ma in quel canale non c'era più quel feeling che serve per portare avanti un progetto come quello che stavamo creando avevamo sempre una scusa per litigare eh, ma porti video solo io queste erano le tue famose parole ogni volta che non usciva un nostro video sei sempre stato un buon capogruppo anche se a te non piaceva essere chiamato capogruppo eri un punto di riferimento per noi parlo in nome di tutti i vecchi componenti del canale i Clashers ricordo con grande orgoglio il giorno in cui ho iniziato a far parte di questo magnifico canale anche se poi è andata come è andata tu volevi aprirti un canale tutto tuo e alla fine l'hai fatto il 28 agosto mi arriva una notifica era proprio il primo video del nuovo canale non puoi capire quanto ero contento di vederti da solo alle prese con youtube sapevo che avresti fatto tanta strada ed è proprio quella che stai percorrendo con i tuoi iscritti quelli che ti seguono davvero adesso che vedo il tuo canale crescere così vertiginosamente ripenso a tutte quelle fatiche che hai dovuto fare per riuscire ad arrivare a questo punto e a volte penso mamma mia come è cambiata la vita di Mattia adesso è Mattiz adesso ha un canale youtube da quasi 4000 iscritti e chissà se fino a uno o due anni fa riusciva ad immaginarsi tutto ciò io penso che sia stata una svolta importante per la tua vita quello che stai creando su youtube sarà poi quello che rimarrà del Mattia di 15 anni un ricordo concreto di tutte le fatiche dell'impegno che metti in ogni tuo video io ti ringrazio a nome di tutti i tuoi fan per regalarci alle volte un solco sul viso chiamato sorriso ti ringrazio per tutti quei momenti che hai dovuto passare davanti al pc invece di andare a giocare o a farti una passeggiata con gli amici ti ringrazio semplicemente perché esisti e soprattutto perché non smetti mai di trasmettere la tua voglia e la tua passione di far divertire dei ragazzi delle ragazze attraverso dei video il tuo più grande sogno si sta realizzando proprio adesso proprio in questo momento la strada è ancora lunga sono sicuro che la percorrerai senza aver timore degli ostacoli che ti si presenteranno davanti io credo in te in quello che sei il tuo più grande sogno è anche il nostro più grande sogno vederti su un palco ad incontrare dal vivo quelle persone che spendono dei minuti della loro vita per vedere un tuo video quelle persone che ti supportano sempre ogni cosa che fai riuscirai ad arrivare a tutto ciò ne sono sicuro è il mio augurio nei tuoi confronti dai Mattia che sei forte dai Mattia che sei grande spacca tutto amico mio e fai vedere al mondo quello che sei capace di fare io credo molto in te e non smetterò mai con affetto il tuo amico Manuel e bella a tutti i Clashers qui è Matiz qui è Franco questo è il nostro nuovo canale dove porteremo video di Clash e altri giochi in poche parole questa è la presentazione del nostro canale a tutti i Clashers